buongiorno amici siamo a bordo di una ford fiesta del 2009 vediamo ora come regolare l'orologio e l'adattario allora innanzitutto quadro acceso passiamo qua sulla consola schiacciamo il menu una volta e vedete che esce fuori tutta l'ipediata con le frecce queste qui che vedete qua scendiamo fino a orologio schiacciamo ok impostazione ora data e modalità se 12 24 ore qui scegliamo sempre con le frecce per cui decidiamo di cambiare l'orario schiacciamo ok entriamo nell'impostazione ora ora vedete frecce in basso frecce in alto regoliamo l'orario per passare i minuti freccia sulla destra è tutto facilmente indicato e si va avanti a registrare regolare a piacimento schiacciamo ok per uscire ok per tornare la base menù ciao amici